Buongiorno Piero Pio Maria Adrioli figlio spirituale di Padre Pio. Oggi è venerdì 22 marzo 2024. Volevo ringraziare tutti per le preghiere che hanno offerto al Signore per me. Devo dire che è stata più dura di quello che pensavo. Diciamo che il più è passato però non è ancora finita cioè il dolore c'è ancora però il peggio è veramente passato. Credo lo spero il Signore mi aiuterà con l'aiuto di tutti voi. Bene quello che voglio dire oggi vedete le cose stanno precipitando sempre di più e purtroppo una parte della chiesa non ha capito che invece di migliorare le cose le sta peggiorando. Vedete quello che è successo a Monfalcone quello che succede a Milano a Pioltello con la scuola praticamente con l'inizio del Ramadan addirittura hanno chiuso la scuola per rispetto del Ramadan. Allora vedete noi siamo in Italia e quindi lo straniero che viene in Italia deve rispettare le leggi italiane e deve rispettare la nostra religione e noi rispettare la loro. Ma se noi facciamo costruire le mosche in Italia riconosciamo il diritto a professare la loro religione ma se noi andiamo a costruire una chiesa nei loro paesi questo non ci viene riconosciuto. Vedete ormai il cavallo di Troia non lo si ferma più e chi ha permesso soprattutto a Roma che il cavallo di Troia si ingrandisse e divenisse sempre più potente e padrone bene sappia che proprio chi l'ha permesso sarà il primo ad essere colpito purtroppo. Preghiamo perché il Signore faccia presto a fare quello che permetterà di fare perché il Signore dice delle cose vedete la seconda lettera di San Giovanni ma se poi e manda dei profeti a ricordarci certe cose ma se noi non seguiamo il profeta come era padre Pio e Luigi Gaspari autore del quaderno dell'amore alla fine cade tutto così come è caduta la torre di Babele perché si voleva raggiungere Dio e padre Pio aveva avvisato mediante anche il suo figlio spirituale prediletto Luigi Gaspari che il periodo il pericolo più grave era arrivava da oriente e soprattutto da una religione quindi noi abbiamo permesso tutto ciò e adesso sentiamo la la Silvia Sardone minacciata di morte il sindaco donna di in Friuli Venezia Giulia che ho detto prima minacciata di morte chiunque la pensi in un modo diverso viene minacciato di morte siamo ormai purtroppo schiavi siamo schiavi di quello che vi ho detto vedete ora voglio leggervi un qualcosa del padre Pio mi ha detto di Luigi Gaspari cosa dice appunto pubblicato nel 1900 io mi feci conoscere da tua madre che sperava gli dice padre Pio a Luigi amava me la tua mamma mi diede l'amore la speranza sua io le donai la speranza lei donai te ora tutto si farà speranza per chi spera da te una buona parola che farai giungere a me sono io che ti mando probabilmente il Signore che parla al fine di darti libertà di pensare sempre a me di fare tutto per me sono io che ti chiedo di non pensare a te porteremo io e il bambino mio il dono di speranza di poter ottenere l'amore nostro l'amore mio nel mio bambino si fa pace per chi lo richiede per chi noi riceviamo andiamo dove c'è facilità di essere accolti con amore non vogliamo perdere tempo abbiamo troppe cose ancora da fare ti farò conoscere un altro volto del mondo di quel mondo che ancora non conosci lo vedremo insieme io e te tu vedrai se il padre tuo non ha ragione di essere indignato e stanco di attendere adesso non si può più attendere perché molti ancora si possono salvare io voglio salvarli perché sono vittime innocenti se attendiamo si perderanno anche questi ecco questo cosa vuol dire che siamo arrivati al dunque o ci si converte adesso o ci si perde e allora mio bambino stringiti forte al padre tuo non dubitare del bene che ti vuole ascolta quel che il padre ti dice per il bene di tutti non c'è più tempo da perdere l'ora della resa dei conti è vicina aiutiamo a chi ha buona volontà il pericolo è imminente che succederà? lo saprai molto presto l'oriente è un tappeto che nasconde tante insidie sotto ci sono preparativi terribili da parte dei nemici del padre tuo nessuno se ne accorge mai così bambino mio l'amore del padre tuo sarà salute e salvezza per molti chiede al padre dio tuo la salvezza di molti perché il padre ti ama e non ti negherà la salvezza di coloro che tu amerai che vorrai salvi il padre dio è felice di sentire che tu lo ami pronuncia sempre il suo nome con amore ogni volta che ti sente così vicino da lui si sprigionano scintille d'amore che investono la terra le scintille d'amore del padre tuo cadono su molti uomini che per tale via ricevono grazie di amore vedete quello che ha scritto Luigi Gasperi e adesso voglio leggervi un qualcosa preso sempre a caso dal profeta padre pio profeta l'idea di libertà umana degli usa sarà sempre schiava dell'idea di predominio della dea ragiona leninista entrambe le idee usa e urs devono espandersi per sopravvivere perciò vivono e vivranno sul piede di guerra vedete preso a caso e parla nel piede di guerra l'America che continua a provocare e la Russia che non si ferma entrambe ragioni orgogliose e potenti non sono fatte per intendersi ma solo per combattersi e abbattersi a vicenda sarebbe sufficiente una parola bomba di vera libertà d'amore di dio per far esplodere i cuori usa e urs già tanto logori e stanchi della loro reciproca troppa fede in una statua della libertà da una parte e di un mausoleo del cadavere di lenin dall'altra ma sia la statua della libertà di new york sia l'imbalsamato lenin di mosca non possono più parlare tanto meno vivificare le loro idee ragioni di libertà di dittatura del popolo vedete vedete il comunismo a cosa ci ha portato e invece anche il capitalismo il capitalismo ci ha portato all'intelligenza artificiale fra poco non ci sarà neanche più lavoro e quindi cosa succede se la gente non lavora? se la gente non lavora va a rubare oppure cosa fa? fa la rivoluzione se la gente in pensione non può prendere soldi cosa succede? succede che va a rubare oppure viene una rivoluzione e invece dall'altra parte cosa ci ha portato il comunismo che ci vogliono praticamente entrato nelle scuole nella pubblica amministrazione nella sanità nella politica nell'europa che ci vuole schiavi perché anche l'america ci vuole schiavi praticamente l'ideologia comunista ha preso il sopravvento cosa ha portato questa ideologia? ha portato alla distruzione dell'uomo, della famiglia, l'eutanasia, l'aborto, i gender, ogni cosa lecita ogni cosa puoi assaltare una banca, puoi distruggere un negozio, intanto non ti viene fatto niente addirittura ha portato all'anarchia vedete quello che sta succedendo con l'extracomunitario che aveva molte condanne e gli anarchici addirittura hanno lottato contro la polizia per tirarlo fuori addirittura ieri sono entrati nell'aeroporto e hanno praticamente assaltato un aereo pensate voi a che punti si è arrivati non esiste più una giustizia se tu ammazzi una persona la magistratura trova il cavillo per attenzione se l'ammazzo io l'ammazzano le persone normali vanno in galera per tutta la vita voi avete capito a cosa mi riferisco bene allora ora voglio leggervi una cosuccia del mio libro Padre Pio e il terzo segreto di Fatima che potrete trovare in libro oppure su ammazzo Padre Pio e il terzo segreto di Fatima in collaborazione di Daniele Gallo e Luca Serafini ecco vi leggo quando mandai la mail a suor Marta Lombardi dopo aver trovato la foto del del padre Pio con il libricino in mano quando lei ha fatto appunto la foto nella cella vuota di padre Pio e nella foto nel rullino è rimasto nella foto padre Pio con il libricino in mano al fine del 2013 intracciai suor Marta Lombardi e ne inviai con tanto di foto e articoli da giornale queste email cara suor Marta sono un figlio spirituale di padre Pio mi chiamo Piero Drioli e ho deciso dopo 25 anni di svelare il vero segreto di padre Pio rappresentato dal libricino descritto nel decimo capitolo del libro dell'Apocalisse grazie a questo libricino chiamato quaderno dell'amore scritto dal figlio spirituale prediletto del padre Luigi Gasperi il Milan si aggiudicò clamorosamente la coppa dei campioni nell'89 nel 2007 e lo scritto del 99 testimone eccezionale Luca Serafini giornalista sportivo e in quel tempo collaboratore di Mediaset i testimoni sono anche purtroppo lo scomparso di Silvio Berlusconi il Paolo Berlusconi c'era anche la mamma di Berlusconi il Daniele Gallo e altri amici lei mi rispose la ringrazio signor Piero di aver ricordato un avvenimento così importante per me perché padre Pio è la persona a cui ho donato tutta la mia vita perché la doni a Gesù con tutto il mio operato la saluto e la chiedo di ricordarmi nelle sue preghiere perché possa far del bene a tutte le persone che ne hanno bisogno madre Marta Lombardi 10 12 2013 14 38 ecco ora ho trovato degli scritti della mia mamma mia cara mamma e come vi dicevo padre Pio gli disse che se l'avesse avesse scritto per per fare del bene alle persone sarebbe stato lui a scrivere con la mano di mia mamma di mia mamma qui scrive una persona si comporti bene ami il Signore di un amore sincero e e molto a e nulla ha da temere il Signore Dio nostro veglia su tutti i figli suoi dando loro l'apporto massimo innanzitutto per perseverare nel bene e poi anche per aiutarli in tutto ciò che le sta a cuore non temiate quando si vive in Dio tutto viene da solo bisogna soltanto avere un po' più di fiducia nell'onnipotenza di Dio egli potuto egli sa quello che deve e non deve fare voi affidatevi a lui e tutto si svolgerà secondo il suo volere dando a voi coraggio di agire di fare di fare tutto ciò che vi compete coraggio figli amati figli miei ti raccomando sempre la santa comunione quella ti sarà sempre di sostegno in momenti difficili ti aiuterà e ti ispirerà per quello che farai vi benedico in nome di Dio Padre la benedizione di Dio scenda su di te e su tutta la tua casa la tua cara famiglia Padre Pio Cappuccino ecco come vedete ora vi ricordo che se volete un attimo solo se volete ordinare il coderno dell'amore dovete ordinarlo solo con una richiesta scritta su whatsapp perché non vi risponderà nessuno vi sarà spedito a casa con un bollettino postale e voi farete un'offerta libera dovete scrivere a questo numero di whatsapp che è il 3713956034 ecco se volete anche appunto richiedere il mio libro all'editore il segno editore il segno e oppure richiedo lo suo ammazzo su ebay mi arriverà il giorno dopo e appunto oltre al quaderno dell'amore sarei felicissimo lì riportata la biografia del dottor Luigi Gaspari con Padre Pio le pagine del libro dell'apocalisse di Don Dolindo Ruotolo dove parla appunto di questo libricino misterioso e poi della storia della mia famiglia con Luigi Gaspari con Padre Pio e Luigi Gaspari vi abbraccio che il Signore ci benedica a tutti continuate a pregare per me prego per voi e che il Signore venga presto a trasformare questa terra dall'inferno al paradiso un abbraccio a tutti grazie mille